Buongiorno, buongiorno e benvenuti alla Lassegna Stampa quotidiana di TV Luna Napoli. Oggi è mercoledì 4 dicembre, Santa Barbara, e noi abbiamo tanti argomenti su cui discutere e confrontarci. Partiamo con il Corriere della Sera per quanto riguarda la prima pagina che parla, un bel titolo, esenzioni la stretta sui furbi, che significa che, come si spiega nell'occhiello il Corriereone, varata la riforma dell'Isee contro i finti poveri, con le banche dati più controlli sui patrimoni, cambia il ricometro più peso alla casa e ai conti correnti. Vediamo di parlarne più in particolare con il richiamo in prima pagina con il governo che ha riscritto le regole dell'Isee, cioè che cos'è l'Isee? L'indicatore della situazione economica equivalente, lo strumento che misura il benessere delle famiglie e che viene utilizzato per le gradatorie che danno diritto alla serie di servizi sociali. Il vecchio ricometro, infatti, era poco attendibile, i finti poveri ne approfittavano. Le differenze con il precedente strumento sono diverse. Meno spazio all'autocertificazione, più controlli sui conti correnti e patrimoni, grazie alle banche dati, maggiore peso alla casa di proprietà, vantaggi per le famiglie con almeno tre figli, sgravi per i disabili articolati su tre fasce a seconda dell'impegno necessario in famiglia. Ovviamente questo almeno sul piano teorico vedremo se poi ci sarà egalitarismo per tutti o invece ci saranno ancora i solidi furbi o soprattutto, quello che temiamo, complicazioni burocratiche. A proposito di politica c'è la vignetta di Giannelli che riguarda, è facilmente riconoscibile, il sindaco di Firenze Matteo Renzi, a proposito del programma per la candidatura a segretario nazionale del PD, ricordiamo che si votano alle primarie l'8 dicembre prossimo, domenica, e Palazzo Chigi chiede all'intervistatore, mi alletta un gioco di parole che però ci permette anche di capire che in questo momento c'è un patto, almeno così dicono molti commentatori, tra Letta e appunto il sindaco di Firenze. Ma a proposito di Letta, vediamo in prima pagina sempre del Corriere della Sera un titolo importante che riguarda il Presidente della Repubblica con Letta che chiedono all'Europa di cambiare rotta, c'è una doppia risposta del leader Premier del Governo e il Presidente della Repubblica alle critiche da Bruxelles, il Premier in particolare dice basta scetticismo sull'Italia, anzi vediamo proprio la sintesi, per l'Europa si impone una correzione di rotta nel senso di un impegno nuovo per promuovere la crescita dell'economia e dell'occupazione, le parole del Presidente della Repubblica napolitano arrivano dopo l'ennesimo richiamo del Commissario europeo agli affari economici, Ren, il Premier di Coletta dice basta scetticismo sull'Italia, questo era per quanto riguardava il riferimento alla politica, mentre invece sempre in prima pagina si sta anche in riferimento alla cronaca e in particolare alla tragedia di Prato di domenica scorsa, c'è stato un corteo e Dario Di Vico ci dice che è stato l'omaggio di Prato di oltre mille cinesi alle loro tute blu cadute sul lavoro ma anche il dolore di una comunità, come se il sacrificio di sette vite avesse mostrato il limite di un modello economico sociale che ha dato profitti ed esistenze però da schiavi, sempre per quanto riguarda il Corriere della Sera c'è la foto di scelta per la prima pagina che riguarda lo sfregiatore del Bolshoi, mentre per quanto riguarda, ecco la vediamo un attimo questa foto che ci dice che il Bolshoi titre fondato nel 1776 era caduto mai così in basso e il primo ballerino che vediamo nella foto dal nome impronunciabile era stato condannato a sei anni perché ritenuto colpevole di aver organizzato l'attacco con l'acido che ha sfregiato il direttore artistico dello stesso teatro. Adesso parliamo di mafia, è un argomento oggi piuttosto importante perché sono state varie cose ieri di cui parlare. Innanzitutto c'è stato il vicepremiere Alfano che a Ballarò ha parlato di PM minacciati e così li proteggeremo, a Palermo torna il timore dell'ostagismo mafioso ma lo Stato è più forte, dicono appunto le istituzioni. In particolare leggiamo perché non ne parla in questo richiamo il Corriere della Sera, bisogna anche dire che ci sono state le minacce di Totò Rina a IPM. Il ministro dell'interno Alfano esprime il timore che la mafia torni all'ostagismo e annuncia misure speciali a difesa dei magistrati più esposti. Una rete protettiva sempre più rigida rafforzata dall'invio a Palermo di un Bob Jammer, cioè un marchigegno capace di disattivare gli impulsi dei telecomandi per eventuali congegni esplosivi. Alfano lancia l'allarme ma aggiunge lo Stato è più forte di chi lo vuole combattere. Ancora ogni attentato sfida ai magistrati è un attentato e una sfida allo Stato. Infine non possiamo escludere la tentazione di una ripresa della strategia stragista dopo tanti anni di silenzio ma lo Stato saprà reagire. Questa era per quanto riguardava l'allarme mafia ma in prima pagina, sia pure con un richiamo breve che è del editorialista Gian Antonio Seco della Sera, parliamo anche di terra di fuoco sui quali però torneremo ampiamente, decisamente ampiamente, quando ci occuperemo della cronaca di Napoli. Il titolo, la terra di fuochi è un primo passo tra lo scetticismo con l'occhiello che ci dice è reato bruciare i rifiuti e questa è la grande novità. E poi il commento sul quale vogliamo soffermarci un secondo, era ora il primo commento al decreto legge del governo sulla terra di fuochi si guadagna gli applausi di Don Maurizio Patriciello, il prete dalla faccia di vecchio scugnizzo che più di ogni altro è riuscito una sassata dopo l'altra a smuovere lo stagno della politica lontana, purché all'annuncio è viva faccia a seguito la vera grande opera che Napoletano e Casettani attendono con ansia e cioè la quotidiana applicazione giorno dopo giorno anche quando i fari delle televisioni di tutto il mondo si sono spenti di un risanamento che sarà lungo, noioso e difficile. Direi allora di passare proprio al mattino perché il mattino ovviamente come quotidiano del Sud e Napoletano in particolare dà molto spazio alla vicenda anche con tanti approfondimenti all'interno. Allora vediamo innanzitutto il titolo che appunto ricorda quello del Corriere, prima risposta per la terra di fuochi, il governo Vareppiano, droni per mappare i terreni no food, sequesti a Giuliano, veleni anche nei campi della Curia, via il decreto pene per chi inquina e brucia i rifiuti, boniche con i fondi della Regione. Vediamole queste pene che appunto sono state proposte con questo decreto, pensa del carcere da due a sei anni per chi brucia i rifiuti. Attenzione, 3 milioni per la mappatura delle aree avvelenate, cabina di regia per gestire i fondi e le bonifiche, i contratti istituzionali di sviluppo per il rilancio economico e accanto alla foto dell'ennesimo rogo nella terra tra Napoli e Casetta vediamo anche tutta la storia del decreto con Gerardo Ausiello per l'appunto del mattino. Linea dura contro i criminali ambientali, mappatura delle aree a rischio e dei terreni no food, realizzando questo obiettivo anche con i droni, i contratti di sviluppo per aiutare la terra di fuochi a voltare pagina e liberarsi dall'emergenza. Il Consiglio dei Ministri approva il decreto per contrastare l'emergenza ambientale in Campania, un frutto del lavoro di squadra tra i ministri Alfano, Veggiro Lorenzini e Orlando e il governatore Caldoro e nasce così la cabina di regia coordinata dalla Presidenza del Consiglio. Il provvedimento non affronta il dettaglio in nodo fondi, ma la copertura è stata assicurata dal Premier Lette, quindi come abbiamo visto si tratta per le bonifiche uno stanziamento di 1 miliardo e 200 milioni. Gli unici soldi di cui si parla del testo sono i 3 milioni per la perimetrazione dei siti inquinati. Se questi a Giuliano sono stati trovati verini anche nei campi della Curia e del resto non dimentichiamo che proprio il Cardinale Scenzo Seppe aveva detto che tutto quello che riguardava la Chiesa per quanto riguarda i veleni sarebbe stato monitorato. Ora soffermiamoci sul colonnino in prima pagina a fianco al titolo di apertura che ci permette di parlare brevemente di calcio, anche se ovviamente poi ci torneremo, e cioè assist, tiri e gol, perché Iguain è meglio di Cavani. Insomma è un identikit del nuovo bomber del Napoli che ha sostituito appunto l'uruguaiano e ci torneremo poi a pagina 32 con Javarone. Adesso invece vogliamo praticamente sorridere un po' con la vignetta di Marassi, con i due vecchietti come al solito in villa comunale, che dicono vogliono sterilizzare Dudu, Dudu è il cane di Berlusconi e della De Pascale e si parla di ennesimo conflitto di interessi. Giustamente si tratta di scherzare, noi invece parliamo di quello che abbiamo visto in prima pagina nel Corriere della Sera, vale a dire l'indice ISEE, la stretta contro dichiara il falso, è il nuovo ricometro che dà più peso alla casa, cioè al patrimonio. Vediamo che cosa ne dice Giussi Francese sul mattino di Napoli. I veramente poveri ne avranno sicuramente dei vantaggi, i neopoveri, quelli che magari hanno una casa di proprietà perché è ereditata oppure perché è acquistata in un momento più florido della propria vita lavorativa, potrebbero invece ritrovarsi tutta un tratto fuori dalla regatatoria. Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato i nuovi SEC, l'indicatore che dà il semaforo verde o rosso per l'accesso a gran parte delle prestazioni del welfare, anche se sono previste maggiore detrazioni per le famiglie numerose, per esempio da tre figli in su, e la possibilità di aggiornare in corso d'anno l'indicatore in caso di perdita superiore al 25% del reddito, per esempio se si è disoccupati, di fatto i nuovi parametri rappresentano un giro di vite, perché? Perché si abbassano alcune franchigie e perché tutti i redditi fiscalmente esenti finora fuori dall'indicatore adesso ne fanno parte. E questa era per quanto riguardava l'apertura, in effetti seconda fascia del mattino, sulla questione del ricometro, ma parliamo anche di mafia, come abbiamo fatto a proposito del Corriere della Sera con l'allarme del Vicepremier Alfano che dice che c'è il rischio di stragi di mafia, il Ministro dell'Interno Nemmirino che indaga sulla trattativa con lo Stato. E dunque si tratta di rischio di una ripresa della strategia stragista di Cosa Nostra. Dopo anni di silenzio i boss potrebbero pensare a riprendere le armi contro lo Stato, ma lo Stato ha assicurato il Ministro, appunto Alfano, dimostrerà di essere più forte. Alfano ha parlato della tentazione di un ritorno alla stagione degli eccili e l'ha fatto a Palermo dove è venuta a manifestare la vicinanza dell'istituzione ai magistrati, vittime di pesantissime intimidazioni mafiose e la solidarietà ai PM che indagano sulla trattativa tra Stato e mafia. Lo Stato, ha detto il Ministro, l'ha detto poi anche a Palermo, è più forte di chi lo vuole combattere. Restiamo ancora al mattino perché c'è una curiosa notizia in prima pagina che ci parla della classifica Ocse, vale a dire i paesi occidentali, dove ci dice male in matematica ma che stupidi test, perché i risultati del sontaggio Ocse per quel concerne la scuola italiana possono essere riassunti con la doppia valutazione. L'Italia si colloca ancora al di sotto della media di 65 paesi esaminati in matematica, in lettura e in scienze, però è uno dei paesi che ha registrato i maggiori progressi soprattutto in matematica e scienze. Sono anni infatti che si parla, ricorderete, della matematica, materia proprio ostica per gli studenti italiani. Fermiamoci prima di passare al Corriere Mezzogiorno, un attimo su Pietro Gargano, il vecchio giornalista del mattino, che ci dice in pochi righi la questione della multa ai bambini della Juve. Tra l'altro a Torino hanno difeso i bambini, si sono anche un po' indignati per la multa del giudice sportivo, effettivamente non siamo certamente d'accordo su questa storia, infatti Pietro Gargano ci dice che i bambini con il cappellino rosso e sciarpa bianco riera fanno oh merda ogni volta che il portiere Ludinese, Zerico Bricic, rinvia il pallore. E così il giudice sportivo Gian Paolo Tosè multa la Juve di 5 mila euro per coro ingiulioso. Discriminazione di origine fecale avrebbe dovuto dire. Ci scherziamo ovviamente, ma fino a un certo punto. Veniamo al Corriere del Mezzogiorno, che sulla questione ambiente punta invece su Bagnoli, perché su Bagnoli si è stata registrata una reazione decisamente dura del Sindaco, anzi il titolo del Corriere del Mezzogiorno è Bagnoli, linea dura del Sindaco. 30 giorni a Fintectra, Cementi Radies, per presentare i progetti, la colmata va rimossa. Insomma De Magistris dice che chi ha inquinato deve pagare e bonificare. Vediamo. Entro 30 giorni Fintectra dovrà predisporre il progetto per la rimozione della colmata a Bagnoli. E la Cementir, che è il proprietario di Suoli, dovrà mettere in sicurezza l'area di competenza contaminata, eliminando tutti i pericoli per la salute collettiva. Il Sindaco di Napoli, De Magistris, ha firmato entrambi i provvedimenti e chiesto alla Fondazione Idisti di provvedere, e sempre entro 30 giorni, alla presentazione della certificazione di avvenuta bonifica. Soddisfatto, insomma, il primo cittadino intenzionato ad estendere questo tipo di provvedimenti a tutti i siti che in città hanno avuto problemi di inquinamento ambientale. Insomma, chi ha inquinato deve pagare e bonificare. Sempre per quanto riguarda il Corriere del Mezzogiorno, soffermiamoci sulla foto in prima pagina, una foto di un incendio, come vedete, e si tratta di una specie di attentato con un individuo che con una tanica ha dato fuoco al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli. E ovviamente si trattava di un uomo probabilmente ubriaco, come ci racconta il Corriere del Mezzogiorno, che ha tentato di entrare in locali del pronto soccorso dell'ospedale. Diceva di essere in cerca di un parente, le guardie giurate l'hanno bloccato perché tentava di entrare in locali, oltre lo hanno consentito. La replica del balordo è stata una tanica di benzina lanciata contro il pronto soccorso. Se ne vedono, come si diceva, una volta di tutti i colori. Soffermiamoci anche sulla questione terra dei fuochi, perché con il governo che ha approvato il decreto sulla terra dei fuochi, parla il Ministro di Politica Agricole, De Girolamo, che dice che chi ostacola le analisi non potrà coltivare. Quindi giustamente è il Ministro dell'Agricoltura che si occupa di questo particolare dell'applicazione del decreto del governo sulla terra dei fuochi. Allora, vediamo un po' di che si tratta. Via al decreto del governo sulla cosiddetta terra dei fuochi. Le norme prevedono, tra l'altro, l'inasprimento dell'ammenda all'arresto per chi brucia rifiuti. Commette un reato e rischia la reclusione da due a cinque anni. Sul versante della mappatura dei campi, per verificare se sono inquinati o no, ecco quello che ci interessava. La Ministra, De Girolamo, spiega che se i proprietari delle terre non consentiranno l'accesso, quei terreni verranno inseriti automaticamente tra quelli dove non è possibile produrre alimenti. Spero che sia chiaro. Una misura dura, questa, del Ministro, ma che dà il senso di quello che stiamo facendo e del rigore che metteremo nella mappatura. Ovviamente, se poi sarà possibile effettuare le verifiche su quelle terre, risulteranno non inquinate, il divieto di coattivazione verrà revocato. Sempre per quanto riguarda il correre mezzogiorno, parliamo anche di posillipo alto, vale a dire, tra via Tasso e via Manzoni, dove è caduto un albero ed è stata blindata l'oasi dei VIP, come ci fa vedere questa foto. Si tratta della caduta di un albero che ha messo in rischio la tranquillità dei VIP e calciatori che abitano in quel parco. Questo perché? Perché praticamente è crollato su un muro. Per cui gli abitanti di questo parco esclusivo non possono più uscire dall'ingresso principale di via Manzoni, ma da quello laterale di via Tasso. Succede anche questo. Poi c'è un'intervista sulla quale punta il Corriere del Mezzogiorno ed è Rodotà, il giurista che non è stato eletto Presidente della Repubblica, ma che c'ha tanto da dire quando si parla per l'appunto di leggi. In particolare il nuovo diritto, dice nell'intervista a Mirella Armiero, è solidare, è una lezione, questo è un anticipo di una lezione che il giurista terrà oggi pomeriggio, anzi stasera, alle ore 18 al Maschia Angioino. Allora, vediamo un po' di che si tratta. Il diritto si rinnova o meglio rafforza alcuni suoi principi. Stefano Rodotà spiega, quando i beni vengono classificati come comuni vuol dire che c'è solidarietà tra chi usufruisce di quei beni. In India la Corte Suprema si è pronunciata sul prezzo imposto a un farmaco dalla casa farmaceutica produttrice. Per la Corte il prezzo è incompatibile con il diritto alla salute dei cittadini indiani e la sentenza mette così in discussione il diritto i bretti. Ne sentiremo di più dallo stesso Rodotà, alle 18 a Napoli. Veniamo alla prima pagina del Roma che invece, come sempre, punta sulla cronaca nera e in particolare parla di una svolta nell'inchiesta della ragazza Romina del Gaudio, vent'anni appena, che fu trovata uccisa nel 2004 davanti alla reggia di Casetta. C'è un nuovo indagato per la morte di Romina, una soffiata contro il boss di Cricignano da Versa Ferdinando Schiava, che dice, praticamente il pentito o comunque chi ha fatto questa soffiata, l'ha stuprata e poi ammazzata. Il PM chiede nome perizzi e una proroga delle indagini. Il Roma ci parla anche della linea dura di De Magistris a proposito di Bagnoli. Infatti ordina a cementire Fintecta la bonifica e la rimozione della colmata a mare. De Magistris parla di provvedimento senza precedente, entro 30 giorni dovranno essere consegnati i piani operativi, c'è chi ha inquinato deve pagare. E c'è la foto appunto della colmata con il pontile di Bagnoli utilizzato dall'exilva con nisida nello sfondo. Sempre per quanto riguarda il Roma, fermiamoci anche a un'altra storia di cronaca nera, a Valadira, a Lavinaio, quindi un quartiere molto popolare della città, dove c'è stato un rogo nel palazzo degli immigrati. Il 118 non arriva e due vigi di fuoco sono rimasti feriti. C'è stato un caso di terrore al Vico Grazia sopra il muro, sono crollati i solai, gli abitanti riescono a mettersi in salvo e poi si dileguono, probabilmente perché si trattava di immigrati non regolari. Per quanto riguarda i richiami di cronaca nera che, come di consueto, il Roma fa, li ricordiamo in poche battute ad Alzano, il pizzo per i clan è stato arrestato un esso solo di 28 anni, a Casandrino assalto a Porta Valori con spari e pestaggio a una guardia giurata. A merito invece, a proposito, questa è decisamente importante questa notizia, perché riguarda il primo grande sequestro di botti vietati in provincia di Napoli. Sono otto quintali di botti killer che sono stati trovati in garage di un incensurato e appunto che è stato poi arrestato dai carabinieri che hanno iniziato questa campagna. Infine, altre due notizie di cronaca nera dalla provincia. Ercolano, una lady pucce, una donna che spacciava cocaina e che è stata quindi arrestata, mentre a Torre Annunziata si è trattato di una rapina a un tabaccaio con schiaffi a un cliente, però sono stati catturati in tre. Adesso veniamo alla Gazzetta dello Sport, così chiudiamo le prime pagine dei quotidiani. Si parla innanzitutto, diciamolo, preferiamo rispetto alla vela apertura, quella sotto la testata, che parla di una cosa che riguarda vicino l'Italia, vale a dire il sorteggio, però gioca sul torteggio, la Gazzetta dello Sport con un gioco di parole, con Blatter che ha inventato il presorteggio Salva Francia. Cioè, che cosa è successo? Che forse in omaggio di Platini non è scattato il ranking di ottobre che prevedeva i francesi nella seconda urna. E così l'Italia a questo punto rischia un girone di ferro con Brasile, Stati Uniti e Hollande. Vedremo. Per quanto riguarda invece l'apertura del quotidiano milanese, Juve o Inter e il duello per Lucas, si parla ovviamente di mercato con la squadra del PSG, la stessa di Cavani e Lavezzi. Ma per quanto riguarda il Napoli, vediamo il riferimento che ha fatto la Gazzetta dello Sport in prima pagina. Si parla dell'attacco del Napoli, un attacco decisamente memorabile, perché il Napoli ha Higuain, Pandev e tanti altri, Benitez ha i quattro assi del gol. E adesso veniamo alla... No, prima vogliamo farvi vedere anche la Coppa Italia, perché c'è da dire che si era eliminato il Bologna, e stasera c'è l'Inter con il Trapari, ma c'è anche da dire che tra quelle qualificate, Parma, Svezia e Avellino, appunto anche l'Avellino che ha battuto il Frosinone, si è qualificato e incontrerà la Juventus. Lasciamo quindi lo sport, veniamo alla prima pagina del mattino, che parla invece del plebiscito, che significa Capodanno a rischio? Perché ricorderete che è la piazza principale della città, dove il 31 dicembre di ogni anno c'è sempre una festa collettiva. Ebbene il soprintendente insiste, difende la lineatura sui luminari ed eventi, non vuole nessuno a piazza del plebiscito, mentre sulle auto in sosta a Palazzo Reale dice mancano gli autobus, ecco perché i dipendenti usano l'auto. Effettivamente è una scusa che un soprintendente non dovrebbe certo avanzare. Siamo parlando di Cozzolino, lo stesso che si era fatto un po' la guerra dei Magistris per i concerti a piazza del plebiscito, dice per lo show serve il mio ok, si rispettano tempi e proceduri, il comune invece dice troppa rigidità. E c'è questa foto della bellissima piazza del plebiscito. Tra l'altro il commento di Vittorio del Tufo, ovviamente che mattino da tempo sta facendo una battaglia contro la dille soprintendenze, in particolare per il parcheggio delle auto selvaggio, il parcheggio selvaggio a Palazzo Reale, attacca e dice i custodi del buio nella piazza che sta morendo. Sempre per quanto riguarda il mattino, vogliamo farvi vedere una buona notizia che riguarda Napoli e Pozzuoli, e in particolare il presidente napolitano. Perché? Perché il presidente napolitano, ecco il titolo, domani c'è la visita, un nuovo centro per Teleton, e arriva il presidente, il capo dello Stato. Dunque, domani la città sarà blindata per l'arrivo del presidente Giorgio Napolitano, e non solo. Alle 18 a Città della Scienza c'è Matteo Renzi per la chiusura nel sud della campagna primaria per la leadership del PD. Dopo gli incidenti di ieri a Roma, dove tra l'altro manifestanti, soccopati campani, avevano tentato di occupare la sede del PD nazionale a Roma, si prevedono misure di sicurezza e per origine. Il capo dello Stato dunque, in città dal mattino, prima al TGEM di Pozzuoli, poi al Teatrino di Corte di San Carlo per un convegno sui beni culturali organizzato alla Fondazione Mezzogiorno Europa. Ma dicevamo di Pozzuoli, che succede? Che domani mattina il capo dello Stato inaugura la nuova sede del TGEM, che è l'Istituto Teleton di Genetica e Medicina diretto da Andrea Ballabio. Interverrà oltre a Ballabio, Luca di Montezemolo, quale è presidente della fondazione che raccoglie i fondi per la ricerca. E poi alle 15, vabbè, c'è il convegno dei beni culturali e terzo settore. Però, come vi dicevo, è veramente importante questo trasferimento da Napoli, dal Vomero, appunto a Pozzuoli, perché il nuovo centro della Teleton avrà molto più spazio, in particolare, nei locali ex Olivetti, attualmente occupati dal CNR e da altri centri di cerca. Allora, a proposito, ritorniamo un attimo sulla questione di soccopati napoletani a Roma. Li vediamo sulla Fontana di Trevi, dunque anche un po' un'offesa a uno dei massimi monumenti della capitale. Alta tensione nella capitale per l'arrivo del Brosso, 800 manifestanti che hanno bloccato il centro in tre gruppi. Il primo ha manifestato, come vediamo dalla foto, a Fontana di Trevi, il secondo ha tentato di occupare la sede di via Sant'Andrea delle Fratte con un bilancio di due agenti feriti e dei contusi del Brosso e il terzo ha oltrepassato il Tevere e si è fermato al Ministero dei Lavori. Brizza-Roma è nato dopo il rinvio al Ministero nell'incontro dove si sarebbe dovuto decidere il futuro dei corsisti e degli altri disoccupati insieme ai rappresentanti del Comune, Provincia e Regione. Sempre per quanto riguarda il mattino, oggi c'è molto su Napoli ovviamente che vediamo per la prima pagina quindi sintetizzando al massimo, c'è il nuovo capo dei Vigili e Acanfora e De Magis ha appunto firmato il decreto dopo la decisione di ieri e sono stati anche assunti dirigenti per la Municipalità. Un breve identikit di Acanfora, quarantenne, due lauree, il Sindaco l'ha conosciuto quando era PM in Calabria. Sempre per quanto riguarda il mattino è importante anche segnalare una notizia che riguarda Casetta ma un po' tutta la campagna e cioè la Camorra. C'è stata un'inchiesta dei carabinieri della DDA di Napoli e un blitz con 35 arresti ed è stato preso il cancelliere della Cassazione che informava i boss in particolare si trattava di clan di Sessa Runca e di Mondragone. Ora direi di passare rapidamente a qualche altra notizia di cronaca anche perché tra poco cederemo la linea a Radio CRC per il collegamento con barba e capelli ma vediamo prima per quanto riguarda gli altri argomenti abbiamo già detto le bonifiche a Bagnoli con De Magistris che accelera e ci chiede e chiede subito via la colmata e inoltre il sindaco chiede 200 milioni al governo 30 giorni per il progetto di rimozione restiamo ancora nella zona di Bagnoli perché per quanto riguarda città della scienza dare a delocalizzare c'è la fumata nera ancora non si sa che succederà soprattutto perché i finanziamenti sono sul filo in particolare ci informa il mattino c'è il duello al ministero della coesione tra il Sodano e il presidente Silvestini con il nuovo vertice in settimana diamo un'ultima occhiata allo sport dopodiché appunto cederemo la linea con la conclusione della nostra rassegna stampa parliamo del mattino con la prima pagina dedicata all'attacco dei Napoli come avevamo visto in prima pagina e appunto volevamo farvi vedere con la squadra che è regina dei gol perché c'è questo attacco da faula perché c'ha quattro punte che segnano sempre appunto si tratta di punte da record e c'è anche l'intervista a Serena ex bomber di tante squadre Inter, Milan, Juventus che ci dice potenziale offensivo enorme ma occorre piecolibrio bene con questa notizia che riguardava appunto con soddisfazione l'attacco del Napoli soprattutto perché noi parliamo sempre del Napoli lo seguiamo sia in Champions che in campionato noi ci congediamo da voi lasciando la linea come di consueto a barba e capelli buon proseguimento di ascolto con TV Luna con TV Luna Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.